Ciao, mi stiamo domando, mi stiamo domando, perché non siamo cercati, ma non c'è un'altra cosa, ma non è sì, è un fatto vero. Quindi, dice bene, siamo regionali per il video, per il posto, per il video, per il video, per il video, per il video. Per il video, la prima cosa è che ci sono un'opera di sviluppo di bisognere il mondo, per il video, 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 per il video. la roba e questi risultati della produzione e il ciclo di legna a creare la banca dei valori di qualità, di qualità, di qualità, di questo stato a trovare e di carico che sono i figli e i figli della vicenda. una situazione che era un sforzo, che era un sistema che vuole coinverso il proprio tutto, perché in questo modo alla fonda ha avuto un progetto, un progetto, un progetto e che del massato l'allenghera, coltacione, coltacione. Di posti del gioco e Gere, che di sante coltacione, un ozano, c'è fruttura e un paese di coraggio naturalmente. E comunque è esso che ha un po' ampio, che dovere, che sceglie, di sedere. E riperbato il fedeli di valentieri a Pagliari. Il fedeli di valentieri all'emergenza che l'abaticanza e il risonso Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.